Bella raga, buongiorno a tutti dal vostro grande, grande Capitan Napoli. Innanzitutto voglio fare un saluto a tutte le donne. Buon la festa della donna che appunto oggi è l'8 marzo. Il giorno dopo la bellissima vittoria del Napoli 3-0 contro il Salisburgo andiamo ad analizzare l'unica cosa che ci potrebbe appunto preoccupare sono ovviamente le due squalifiche dei due difensori centrali Kulibaly e Maksymovic quindi molto probabilmente giocheranno come difensori centrali nella partita di ritorno giovedì 14 marzo alle ore 18.55 in Austria nello stadio del Salisburgo Chiriches, Chiriches e Luperto. Speriamo, non penso sia già recuperabile già per la trasferta già di Salisburgo, Raul e Albiol ma da come avevano detto due mesi potrebbero, ripeto, potrebbero essere recuperabile per i quarti di finale d'Europa League che se non erro dovrebbero essere l'11 e il 18 di aprile. Quello che volevo dire che ho scoperto è che quando, se tutto va come deve andare facendo, scusate, faccio le corni dei debiti scongiuri quanto faranno il sorteggio venerdì della prossima settimana 15 marzo all'oretreggio d'Europa League sarà l'ultima volta che faranno i sorteggi per questa edizione dell'Europa League perché sorteggeranno già i quarti di finale ed ovviamente sorteggeranno già le semifinali cioè faranno i quattro quarti e diranno già tra di loro tipo la prima partita dei quarti affronta la terza dei quarti così verranno già abbinati ai semifinali quindi in definitiva, in parole povere la squadra che sa già che incontrerà i quarti che sa già che se dovesse andare in semifinale gioca contro la vincente di quel quarto là appunto ritornando a ieri è stato veramente che si sta confermando veramente come avevo detto quest'estate che ero molto entusiasto dell'acquisto di Merette veramente un grande portiere se non ci credete andate a vedere i miei video di quest'estate quanto ho dato l'ufficialità un altro giocatore io che sono un grande maestro, esperto di calcio che ne avevo parlato benissimo come un grande acquisto ero stato anche criticato dicendo sei esagerato, enfatizzi troppo gli acquisti dei Napoli come Fabio Ruiz che comunque l'avevano pagato circa 30 milioni di euro l'avevo visto giocare nel campionato spagnolo dove giocava lui nel Betis Sevilla e mi aveva molto 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 entusiasmato e sta dimostrando in Italia anche molto giovane mi pare che quest'anno compia 23 anni è un giocatore che appunto nel Napoli sta insusiasmando sempre di più a grandi giocate la cosa che avevo detto quest'estate che più mi piaceva di questo giocatore che ha una caratteristica che pochi centrocampisti in Europa hanno la cosa denominata velocità di pensiero cosa vuol dire? che innanzitutto sui passaggi non ne sbaglia quasi mai neanche una la media degli 8-9 su 10 di passaggi riusciti ed quasi sempre fa la cosa migliore in assoluto che avrebbe potuto fare in quel preciso momento questa è la definizione della velocità di pensiero ieri ha fatto un grandissimo gol di controbalzo non è primo a queste prudezze in altre partite di campionato aveva preso anche una clamorosa traverca su questi bellissimi tiri che fa lui veramente un gran bel giocatore crescerà il suo valore di mercato sperando rimanga il più lungo possibile sempre di più sempre di più è veramente molto forte si abbina molto bene molto molto bene ad Alan secondo me abbiamo un centro campo forse tra i più forti in Europa perché abbiamo Alan lo voleva anche Paris Saint-Germain ed era arrivato a offrire 80-85 milioni di euro l'altro è Fabio Ruiz che sta crescendo sempre di più uno dei migliori esterni al mondo detto da molti anche in prospettiva a sinistra abbiamo la grande esperienza che ha 32 anni di Calegion che è un giocatore molto prezioso e quindi penso che abbiamo un centro campo fortissimo Milik che è stato tanto criticato quest'estate che giustamente la gente voleva un top player pensando che Milik non era all'altezza tra campionato Europa League e Coppa Italia alla fin fine lui è già 16 gol quindi non è proibitivo pensare che da qua alla fine le campionate dell'Europa League sperando veramente l'Europa League di arrivare in quella bellissima città che si trova in Afghanistan e per scaramanzia dove c'è la finale non diciamo altro Milik potrebbe benissimo arrivare addirittura a 20 gol minimo totale perché adesso a 20 gol stagionali gliene mancano solo 4 quindi non si potrà dire che c'è mancato uno che facesse la doppia cifra doppia cioè almeno 20 gol tra i campionati Coppa e secondo me se continua così non so dirvi il numero preciso dei gol potrebbe addirittura arrivare anche un pelino più di 20 e presuribilmente potrebbe arrivare in totale a farne 22-23 sono molto felice del Napoli di ieri quindi appunto nel ritorno diamo fiducia a Kikeres che ha giocato una buona partita nella partita mi sembra di ritorno contro Luzurigo e i sedicesimi e anche Luperto che quasi quando sempre è stato chiamato soprattutto da difensore centrale è un grande giovane in prospettiva e si è sempre comportato bene abbiamo fiducia in questi due da una parte è meglio così che il difensore più forte che abbiamo sicuramente tra i primi tre al mondo il culibali forse è un bene che è stato munito ha munito adesso dopo un 3-0 in casa perché se ad esempio fosse stato munito nella gara di ritorno avrebbe ovviamente saltato l'andata dei quarti di finale oppure ha munito nella gara dei quarti e saltato i quarti di ritorno perché ricordiamo che innanzitutto quanto sia il difensore centrale si è diffidato da più in una partita prima o poi un giallo lo prendi poi seconda cosa ovviamente più avanti vai in Europa League in teoria non sempre così più si eleva il grado di difficoltà almeno che non hai la grande fortuna tra virgolette di ai quarti se ad esempio è un esempio la Dinamo Zagabria elimina il Benfica che comunque ieri ha vinto in caso 1-0 e becchi una squadra non dico debole perché se arriva a fine quarti e diventa Benfica sarebbe sempre un avversario ostico ma comunque non è una squadra superiore di tanto a Salisburgo e il livello è più o meno quello ecco di solito andando avanti quindi meglio avere uno come Colibali per facendo i debiti scongiure per i quarti di finale e sperando di recuperare anche il fortissimo Raul Albiol così da avere come difensori centrali Albiol e Colibali ed in trasferco non mi dispiacerebbe a destra in certi tipi di partite invece che mettere uno troppo offensivo come Malquit che però purtroppo in generale pecca pecca purtroppo nella fase difensiva e dovrà migliorare tanto nel tempo mettere Maximic che sicuramente è molto molto meno bravo di Malquit nella doppia fase nella fase offensiva ma sicuramente uno come Maximic è molto più bravo nella fase difensiva rispetto appunto al comunque brevissimo Malquit che è un giovane che crescerà che è soprattutto un giocatore di spiccate propense offensive vi auguro un buon prossimo di giornata e chi non si è ancora iscritto al mio canale iscrivetevi iscrivetevi al mio canale del vostro grande grandissimo Capitan Napoli seguitemi su Twitter Capitan Napoli esperto di calcio pagina Facebook Capitan Napoli ed esperto di calcio sempre e comunque forza Napoli sono felicissimo della vittoria di ieri sempre forza Napoli ciao ciao